Ciao amici, sapete che si possono bruciare calorie davanti alle tv? Questo fa per me, come si fa? Vediamolo subito in questo video. Chi ha detto che per allenarsi bisogna per forza andare in palestra? Perdere calorie guardando le serie tv preferite è possibile, coniugando piacere e salute. In più, evita lunghe sessioni sul divano fermi a mangiare trash food e schifezze varie e ci stimola ad allenarci di più perché non lo avvertiamo come un peso, anzi. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco come fare in pratica. 1. Correre sul tapis roulant. Se l'avete a casa fate una bella sessione cardio sul tapis roulant, alternare camminata in salita o corse veloce con un ritmo più basso fa bruciare calorie. 2. Tre serie di squat e addominali. Questo possiamo farlo tutti. Fate 10-15 squat e poi 10-15 addominali. Ripeteteli in serie per almeno tre volte. Le ripetizioni aumentano la massa, la resistenza, la forza e la definizione dei muscoli. 3. Saltare la corda. Perché non imitare Rocky Balboa mentre ammiriamo le sue gesta in tv? Saltare la corda brucia calorie, aumenta l'ossigenazione, la resistenza e l'agilità. 4. Fare yoga. Scegliete le vostre posizioni di yoga preferite per distendere i muscoli. Potete farlo sul materassino proprio davanti alla televisione. Funzionano bene lo stesso. 5. Circuito di allenamento. Se vi sentite particolarmente carichi, perché non cimentarvi in un circuito di allenamento? Potete imparare le sequenze della mia amica Serena da questa playlist e farle tutte. 6. Esercizi a terra. Seduti o distesi sul materassino, potete allenare le gambe e gli addominali mentre ammirate le avventure o le storie romantiche dei vostri eroi preferiti. Avete visto amici? Allenarsi mentre guardate le vostre serie tv preferite è possibile. Per vedere tanti altri video per la salute e la forma fisica è facile. Iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale. Avere cura della forma fisica è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio!